Le fasce laterali garantisci ampiezza l'azione offensiva, costringi la difesa avversaria ad adattarsi, ad allargarsi e questo ti permette di essere più pericoloso anche all'interno dell'area di rigore. Questa vittoria è nata da un ricorso sistematico al cross Fabio. Hanno sfruttato molto bene le fasce mettendo in mezzo molti palloni pericolosi. Gli avversari hanno perso perché non sono riusciti ad arginare i loro esterni. È finito il tempo a nostra disposizione. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. È sempre un piacere lavorare con te Fabio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.